Ciao carissimi, come va? Come sta andando la vostra estate? Mi auguro bene! Oggi andiamo a fare la seconda delle quattro ricette a base di baccalà. Se vi siete persi la prima, intanto ve la linko qui sotto in modo che ve la andate a riguardare. Così vedete come ho dissalato il baccalà, come l'abbiamo sezionato. E nella prima versione, nella prima ricetta, non versione, avevamo fatto il baccalà fritto con i peperoni cruschi. E che spettacolo! Ma oggi non è da meno. Oggi invece andiamo a fare un primo piatto, la pasta col baccalà. Strepitosa! Venite con me! Ed eccoci pronti con tutti gli ingredienti a disposizione che ora vi vado a descrivere uno per uno. Non solo tantissimi, ma è importante che siano tutti di alta qualità. Faremo tre porzioni calabrese di questa strepitosa pasta, per cui vi do i quantitativi di riferimento. Partiamo da 700 grammi di baccalà. La parte centrale, quella più spessa e quella più morbida. Vedete che bei blocchetti. Vi ho fatto vedere nella prima ricetta quant'era tutto il baccalà e la parte che dovevamo riservare per questa preparazione. Olio extravergine di oliva, qualche pomodorino, delle olive verdi, tre cucchiaini di capperi dissalati, la metà di una bella cipolla rossa di tropea. Come formato di pasta ho scelto oggi questi meravigliosi lumaconi calabresi trafilati al bronzo. Questo formato e tanti altri li trovate nel nostro sito sfizidicalabria.com e vi metto il link in descrizione. Come anche il vino bianco che ho scelto, che è questo San Francesco della linea Verbicaro. Mi raccomando non ci mettete vino in cartone, quello proprio da 50 centesimi, altrimenti rovinerete la ricetta. Ricordiamoci che a tavola il risparmio non è sempre guadagno. Iniziamo con il tagliare la cipolla. La tagliamo piccola così e poi la mettiamo da parte per adesso. In modo che ci andiamo a tagliare anche il baccalà e quando siamo pronti con tutti gli ingredienti ci spostiamo ai fornelli. Ed ora ci occupiamo del baccalà. Per la prima cosa togliamo la pelle dalla polpa. In questo modo qui. Adesso andiamo a tagliare a dadini tutto il baccalà. Attenzione perché siccome stiamo lavorando la parte dorsale, il baccalà ha delle spine. Spine abbastanza grosse per cui facili da individuare e o con le mani o con una pinzetta non avrete difficoltà a toglierle. Tagliamolo pure abbastanza grossolanamente. Non ha importanza che sia troppo sottile in questo caso. Questo primo piatto è molto saporito ma allo stesso tempo è delicato e assolutamente non è pesante. A me personalmente questo primo piatto piace tantissimo. Anzi fatemi sapere nel caso in cui provate a farlo anche voi se è di vostro gradimento. Come vi dicevo sono tre porzioni alla calabrese non da ristorante stellato. Per cui ce ne abbiamo messo quasi 700 grammi. Guardate com'è bello tutto cubettato. Benissimo direi che a questo punto possiamo spostarci ai fornelli. Intanto iniziamo a mettere nella pentola l'acqua della pasta e la portiamo ad ebollizione. Ora seguite bene questi passaggi. Quando la padella è sul fuoco bella calda andiamo ad aggiungere 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Per cui la lasciamo prima riscaldare e poi aggiungiamo l'olio. L'olio a temperatura ha cambiato consistenza. A questo punto possiamo aggiungere la cipolla e andiamo ad abbassare il gas. Così abbiamo la temperatura giusta per permettere alla cipolla di rosolarsi senza bruciarsi. Adesso aggiungiamo un po' dei cubetti di baccalà. Un po' significa giusto un quarto di tutto quello che abbiamo tagliato. Non lo mettiamo tutto perché questo po' che aggiungiamo in questo momento servirà giusto a dare cremosità a questo fondo. E già in questo momento il profumo inizia ad essere davvero molto interessante. Bene adesso cosa facciamo? Prendiamo un bel bicchiere più o meno di vino bianco che vi ho fatto vedere prima, questo di verbicaro, e lo aggiungiamo in padella. Gli diamo giusto il tempo che evapori e anche l'acqua contenuta nel baccalà. E poi possiamo aggiungere i pomodorini. Ricordiamoci che non stiamo facendo un ragù per cui basteranno giusto una diecina. Che non vado a tagliare prima ma andiamo a schiacciare proprio come faceva la nonna. In modo che anche il liquido con i nessi contenuti vada in padella. È molto importante. Tanto le mani sono pulite, la devo mangiare io. Per cui non ci scandalizziamo più di tanto. Questi sono pomodorini piccadilli, belli maturi, per cui molto dolci e gustosi. Appena raccolti e lavati, insieme alla cipolla rossa andranno a dare il tono dolce a questa ricetta. Adesso un bel giro di pepe macinato al momento, pepe nero. Il pepe nero sta benissimo con il pesce ma se vi fa male ovviamente non lo mettete. Mmm ragazzi e che profumino, sono le 12 e mezza e a quest'ora già non si resiste più. Adesso aggiungiamo le olive, una bella manciata. Io non le preferisco quelle taggiasche in questa ricetta perché abbiamo già sapori abbastanza sapidi. Il baccalà, i capperi che andiamo adesso ad aggiungere. Per cui quelle taggiasche non le preferisco. Però voi se avete quelle potete tranquillamente aggiungerle. Diamo una bella girata. Adesso senza fretta lasciamo andare il tutto per una decina di minuti a fuoco lento. Se vediamo che il sughetto si è asciugato troppo possiamo idratare con mezzo mestolo di acqua di cottura. E lasciamo andare ancora. Trascorsi 10 minuti andiamo ad aggiungere tutto l'altro baccalà che ancora avevamo da parte. Vi consiglio di mettere gli ingredienti nella stessa sequenza con la quale li sto mettendo io. Ad esempio se i capperi li andate a soffriggere insieme alla cipolla si perderebbe poi la delicatezza del gusto del baccalà. Perché il sapore diventerebbe diverso, molto più accentuato. E ve lo sconsiglio. Bene, aggiungiamo ancora mezzo mestolo di acqua. E mi raccomando ogni tanto assaggiate. Perché come vedete non abbiamo aggiunto per niente sale. Per cui i sapori sono abbastanza sapedi. E' il momento della pasta. Come vi dicevo una pasta a lenta essiccazione trafilata al bronzo. Guardate quanto è ruvida. Questa va a tirare benissimo il gusto del sughetto. Ma soprattutto ho scelto questo formato perché mi piace poi che i pezzettini di baccalà vadano all'interno. Ed ogni forchettata vi assicuro che sarà un tripudio di sapori. Andiamo a calare la pasta. Ne mettiamo circa 350 grammi. Quando mancheranno un paio di minuti alla fine della cottura della pasta. L'andiamo a scolare e ad aggiungere in padella. Insieme al baccalà e tutti gli altri ingredienti. E gli facciamo finire la cottura qui. E la facciamo finire di insaporire qui. Giriamo. Se è necessario aggiungete mezzo mestolo di acqua di cottura che è ricca di amido. L'amido è molto importante per questa pasta. Proprio perché il baccalà ha pochi grassi. Per cui l'amido gli fa benissimo. E dopo gli ultimi due minuti in padella a fiamma alta, mi raccomando, andiamo ad impiattare la mia porzioncina. La mia delicata porzioncina. Eccola qui. Vedete come vi dicevo? Tutti i pezzettini di baccalà si vanno ad inficcare dentro la pasta. Ed è uno spettacolo meraviglioso. E che profumo ragazzi. Un profumo indescrivibile. La dovete assolutamente fare. Un piatto povero ma gustosissimo. Come quelli che piacciono a noi, vero? E siamo arrivati al momento strepitoso dell'assaggio. È ancora molto calda. Vedete qui si è infilato dentro sia baccalà che anche oliva. E ragazzi, l'orologio si ferma ancora. Si ferma ancora perché il sapore è unico. Unico veramente. Guardate qui. Ed anche il formato di pasta ci sta benissimo. Bella al dente. Gustosissima. Ha trattenuto benissimo il sughetto. È strepitoso. E vado di nuovo. Beh, qui ci vuole una bocca abbastanza capiente come la mia. Altrimenti li dovete tagliare. Qui invece la lumachina ha catturato pomodorini, cipolla e baccalà. Wow! Ragazzi, alla prossima! E soprattutto mi raccomando, se vi piacciono le mie ricettine, continuate a seguirmi. Amico di YouTube, ti è piaciuto il video? Ora ho io una cortesia da chiederti. Mi raccomando, iscriviti al canale, cliccando su iscriviti qui sotto e attivando anche la piccola campanellina che vedi. Questa cosa serve? Che verrai avvisato le volte successive, non appena pubblico un video, verrai subito notificato e potrai vedertelo senza perdertelo. E mi raccomando, condividilo anche sui social, così può far piacere anche ai tuoi amici seguire queste video ricette calabresi. Un abbraccio dalla Calabria, da Gianluca e da sfizidicalabria.com Grazie a tutti! Grazie!